Opera Bosco, museo di arte nella natura, è un itinerario di arte contemporanea all'aperto su due etari di bosco nella forra della valle del Treia Calcata in provincia di Viterbo. Un museo-laboratorio sperimentale di arte nella natura che si distingue da altri luoghi che ospitano opere d'arte all'aperto per la sua scelta di realizzare i lavori esclusivamente con i materiali naturali grezzi del bosco. Percorrere i sentieri di Opera Bosco significa anche penetrare nel cuore della forra della valle del Treia e immergersi nell'abbondante biodiversità che ci trasporta a volte nell'immaginario delle foreste tropicali oltre a incontrare testimonianze paesistiche e rupestri della millenaria storia di antropizzazione di questa valle che la manutenzione selettiva conserva e fa emergere. Opera Bosco è un esempio concreto di attuazione della cultura e della simbiosi tra attività umana e natura. E' anche la metafora di un'impostazione ecocompatibile per tutte le attività produttive di una società orientata ecologicamente. Nel 2007 Opera Bosco contribuisce alla definizione delle linee guida dell'area foreste della Regione Lazio e menzione speciale del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa dal 2010 al 2015. In questi 21 anni di attività il Museo svolge attività di educazione artistica ambientale coinvolgendo docenti e studenti di ogni livello scolastico, dall'infanzia all'università. Realizza interventi di arte nella natura in diversi luoghi in Italia e all'estero. Partecipa alla quattordicesima Biennale di Archibaldi. Architetture di Venezia 2014 nell'ambito degli eventi promossi dal Ministero per i Beni Culturali con la realizzazione di installazioni sull'isola della Certosa e nel 2015 con la realizzazione di un'opera monumentale realizzata collettivamente da cinque artisti sull'isola di San Secondo a Venezia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.